Adesso non regaleremo, ma da lì c'è. Oh, è stata così brava, amici! Oh, ma sento qualcosa. Ma questa... ma che ore sono? Ma è l'ora del tè! Ma ma ma... dobbiamo prepararci per il tè! Ancchio, un po' di tè! Salute! 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 Trattata, insomma! T'è stato perché lo puo. Prego. Questa. Voi, vieni, vieni, vieni! Vieni, vieni mi, vieni! Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Hai sonno? E bisogna che vada a farlo di così. Buonanotte! Allora, attenzione! Ma l'ora del tè non è finita! Dobbiamo apparecchiare! Dobbiamo apparecchiare! Adesso voglio sentire tutti quanti con le mani in alto a tempo di musica! Allora, attenzione! Allora, attenzione! Allora, attenzione! Allora, attenzione! Grazie a tutti Controllate i piatti mi raccomando che non devono cadere Avvisatemi C'è qualcosa che va? Non va? Tutto bene? Tutto a posto? Cosa c'è che non va? Ma questo stavo per cadere e non mi dita niente Dovete urlare forte e non mi sento Cosa c'è? Quale? Questo? Bravissimi Tutto bene? Oh dai Dobbiamo parecchiare che ci abbiamo tanti invitati Mi sa che uno non mangia stasera Controllatevi Quali? Questo? 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 Quale? Questo qui? Questo qui? Controllate anche questo Non mi sento Cosa state dicendo? Giusto Aiuto Aiuto Facciamo diventati batti Aiuto Quanti ne mancano Quanti ne mancano Quanti ne mancano Ah Ai 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 Non me lo mi vieni Non me lo mi vieni È tutto buio Quale? Questo 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 Questo? Ce l'abbiamo fatta E la macchia su uno Sìììììì Cosa succede? Non li vedo più! Quali? Pronti per l'applauso? Pronti per l'applauso? Adesso! Aiuto! Aiuto! Quale? Questa! Aiutatemi! Questa! Non ce la faccio più! Aiuto! Sono stanchissimo! Dove vado? Babuini! Questo! Poi questo! Babuini! Questo! Questo! Babuini questo! Sì! Ce l'abbiamo fatta! Ecco l'ultimo! Abbiamo finito! Nooo! Vabbè mettiamo lì! Siete stati bravi però eh! È stato... dove c'è? Cosa? Ehi! Ehi! Ma no! Abbiamo finito! Cosa? 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 Ma dove? Ma non vedo! 1 2 3 4 5 6 7 8 Qui! 1 2 Non c'è! Non c'è più niente! Ma dove lì che non c'è? Ma siete sicuri? 1 4 2 3 avevate ragione questo ce l'avevo dimenticato allora oh 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 vogliamo fare un super numero? allora contate fino a tre fare un salto mortale uno due finito grazie sto matto è stato difficilissimo voi siete stanchi? come fate a non essere stanchi? io sono stanchissimo pensate che avete fatto tutto voi se non era per voi abbiamo rotto un compiatto ma il povero piatto eccolo qua allora avete fatto un applauso al bianconiglio? allora aspettate che mettiamo via tutto eh eh sì eh scusate mi rimetto anche la giacca perché è un po' di freschino stasera eh sembra che essere a Dubai allora allora oh bambini il fiore ad Alice non l'ho potuto regalare però io ci tengo tanto a fargli un regalo possiamo regalargli una cosa bellissima? la corona del paese delle meraviglie gliela diamo ad Alice? ma sì allora facciamo così allora guardate qui questa è la corona del paese delle meraviglie adesso voglio regalarla a questa bellissima principessa ad Alice però chiamatela fuori voi che sono timido Alice Alice ma sì c'è qui Alice io ho un regalo è vero bambini che c'è un regalo? è un regalo regaloso è per il non tuo compleanno è un bellissimo regalo è la corona del paese delle meraviglie questa è solo la regina ce la può vedere guarda gli sta bene è bellissima guarda una colonna vera adesso diventerai una regina anche tu eh? chi c'è? chi è? chi? ma come per malosa ma era era per fargli un regalo no cosa devo fare? devo tagliargli la testa ad Alice non posso? bambini è vero che non possiamo tagliargli la testa non è una gallina eh allora bambini dobbiamo rimandarla subito a casa useremo una mia invenzione un teletrasporto Alice questo è l'ascensore per tornare a casa entra dentro adesso dovrai bere una pozione magica che ti fa diventare piccola piccola aspetta baby non ti preoccupare ci ho messo solo tre gocce di pipì di lumaca l'ara di un pipistrello la coda di un topo è la cacola di un dinosavo è la pozione magica è già è già sparita adesso la facciamo diventare piccola grazie Grazie a tutti. 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 E la scatola è vuota. Alice non c'è più, è tornata a casa sua. Finalmente... Oh oh, non ha funzionato. Ma dovevi tornare a casa? Adesso che sei in pericolo, la vicina vuole che ti taglio la testa. Ho avuto un'idea. Ho avuto un'idea. Ho avuto un'idea.